Tu sei la corrispondente RAI da Parigi. Com'è la situazione in Francia? Come il pubblico reagisce alle inchieste? Cosa chiede dal giornalismo? Se noti delle differenze rispetto al nostro paese? Sto lì da poco, però è un altro modo spesso di fare informazioni rispetto a quello dell'Italia e come modo di fare giornalismo cercano loro di anticipare la notizia e spiegarla prima che diventa di attualità. Per dire, oggi Emmanuel Macron interviene sulla sicurezza, già il suo piano di sicurezza è stato già spiegato il giorno prima dai giornali, per cui il titolo avviene prima del fatto spesso. E questa è una cosa che mi ha colpito molto, perché spesso in Italia invece c'è l'intervento del politico e il giorno dopo ce lo troviamo nei giornali. Lì invece viene un po' anticipato. Per quanto riguarda le fake news, sono molto attenti alle false informazioni, perché la società francese è molto complessa, soprattutto è diventata ulteriormente difficile dopo gli attentati di due anni fa, perché è una società molto più multiculturale rispetto all'Italia, perché hanno un'immigrazione più antica rispetto alla nostra e dove comunque purtroppo ci sono realtà disagiate che qualora venisse fuori una notizia falsa legata soprattutto a questa classe più disagiata potrebbe creare problemi più sedi rispetto a quelli che vengono create ed altrove, per cui c'è molta attenzione a verificare le notizie. L'altra cosa che colpisce è che comunque questa realtà multiculturale che c'è in Francia è molto rispicchiata nei mass media, nella televisione francese. Se tu accendi qualsiasi canale francese tu vedi volti francesi, volti francesi di origine africane, volti francesi di altre origini, per cui la multiculturalità della società è presente molto anche nei mass media, mentre in Italia raramente trovi comunque un giornalista straniero. Io lo sono, ma saremo 3-4 per esempio in Rai, mentre in Francia sono tantissimi, così anche come la carta stampata, trovi tanti nomi, comunque nomi, cognomi non tipicamente francesi. Ed è questo importante e questo secondo me è un valore aggiunto, perché se tu hai persone che vengono da altre realtà, quando raccontano la Francia, ma raccontano anche magari fatti importanti a livello internazionale, hanno uno sguardo diverso rispetto a chi è nato e cresciuto sempre in Francia, ma perché volenti o non elenti, venendo da fuori, comunque hai fatto un percorso diverso da chi è nato in una patria dove poi comunque ti ha ospitato. E questo secondo me aggiunge qualcosa in più all'informazione e al giornalismo. Ti fa guardare in un altro modo una notizia e un dato e un fatto. Ti porta forse anche a verificare di più, perché comunque spesso vuoi dimostrare di non sbagliare, di fare la cosa giusta e ti fa perdere magari quel 5-10 minuti in più per non cadere nell'errore e questo potrebbe essere un valore aggiunto. Chi era Roberto Morione? Roberto Morione innanzitutto è stato il mio primo direttore, è la persona che mi ha scelto per lavorare in Rai e è la persona per cui io sono rimasta in Italia, perché io stavo ancora all'università, il mio progetto era rientrare a Nazareth e lavorare lì, però avendomi scelta, avendo cominciato a lavorare in Rai con Roberto Morione, poi sono rimasta in Rai e in Italia. Oltre ad essere stato il mio direttore, mi ha fatto sentire subito parte di un progetto. Un progetto creato da una famiglia, che era la famiglia di Rai News 24, e mi ha fatto subito sentire membro di questa famiglia. e poi ha riconosciuto subito l'equalità che ha una giovane che viene da un'altra realtà, da un altro mondo. Poi io vengo da Nazareth, sono araba, ma sono cristiana, ho cresciuto tra due comunità, ibrei e musulmani, per cui avevo queste tre caratteristiche che a lui hanno colpito molto e mi aveva portato un po' in giro, come una bandiera di Rai News 24. E questo per una giovane giornalista che aveva il suo primo contratto di lavoro. Io ho cominciato subito come lavoro, il primo lavoro che ho fatto l'ho fatto con Roberto Morione, mi ha fatto molto piacere e ho sempre uno splendido ricordo di lui. E questo a distanza di tanti anni, perché parliamo del 2003 che sono entrata in Rai, io ancora mi sento parte di questa famiglia e infatti con Giovanni, con Mara, con tutte le persone che oggi portano il nome di Roberto Morione e con questa associazione, mi sento un membro di questa associazione, di questa famiglia. E come un padre è stato per me, io avendo la mia famiglia lontano, lui è stato un punto comunque di riferimento, è stato assolutamente gentile. Poi una caratteristica che io adoro, perché io sono fatta così, è un uomo che aveva sempre il sorriso sulle labbra, era ottimista, positivo. Io sono una persona così, per cui quando trovo una persona che mi ricambia col sorriso, questo ti dice veramente chi è questa persona, è assolutamente gentile, cordiale e soprattutto una persona felice, felice, serena.